E qui nella suggestiva penombra della cappella delle reliquie a destra dell'altare della cattedrale che padre Puglisi riposa da ieri, circondato dai resti di altri santi e martiri della chiesa palermitana, qui rimarrà per alcune settimane almeno fino al 25 maggio, giorno in cui è prevista la beatificazione allo stadio Barbera. E' proprio in vista di questa data che è stato disposto il trasferimento della sua salma in cattedrale. Le stumulazione e la traslazione dei suoi resti sono state compiute ieri in un clima di grande emozione dalla commissione diocesana. A vent'anni di distanza ci siamo trovati davanti a un corpo perfettamente intatto, ha detto ieri Monsignor Cuttita, vescovo ausiliare di Palermo. Non un teschio, ha detto, ma un viso dai tratti riconoscibili e soprattutto le mani dal colore roseo sembravano quelle di una persona viva. Attorno al corpo di padre Puglisi c'erano anche una copia del Vangelo e un'icona della Madonna e poi una rosa deposta nella bara da una persona molto cara al parroco di Brancaccio. Tutte queste reliquie adesso sono state collocate dentro una nuova cassa insieme al corpo di Don Puglisi. Una sistemazione provvisoria però quella della cattedrale. È previsto infatti che il sacerdote di Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15 settembre del 93, nel giorno del suo compleanno, torni nel suo quartiere, lo stesso in cui fino alla fine cercò di strappare alle cosche spazi di manovra e manovalanza i bambini e i giovani ai quali si dedicò con il centro padre nostro. Per Don Puglisi si sta lavorando anche ad un monumento funebre particolare e rappresenterà una spiga di grano per evocare un concetto che gli stava molto a cuore, quello del seminare Chichi di Speranza per fecondare terra e far germogliare un futuro migliore.